Prima di iniziare vi ricordo che è uscito il mio canzoniere da spiaggia, quindi raccoglitore di 250 canzoni con gli accordi facilitati per chi vuole iniziare, se vuole allenare o chi vuole semplicemente divertirsi. Per averlo cliccate il primo link in descrizione. Oggi vediamo come suonare Poesie senza veli di Ultimo, una canzone molto facile perché mettiamo il capotasto sul quarto tasto della nostra chitarra per fare degli accordi molto facili, per fare il Do maggiore, il Sol maggiore, il La minore e ritorniamo ancora sul Sol maggiore. Quindi sono tre accordi, semplicemente, ma il giro è di quattro perché ripetiamo due volte il Sol maggiore. Come formiamo questi tre accordi? Abbiamo il Do maggiore, lo formiamo con il primo dito sul primo tasto della seconda corda, secondo dito sul secondo tasto della quarta corda e il terzo dito sul terzo tasto della quinta corda, ok? Dalla quinta corda in giù. Sol maggiore, il quarto dito sul terzo tasto della prima corda, il terzo dito sul terzo tasto della sesta corda e il secondo dito sul secondo tasto della quinta corda, ok? Li possiamo fare anche così per chi è principiante, ok? Quindi giro, Do, Sol, La minore e Sol maggiore, ok? Sia la strofa che il ritornello, quindi E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più Come vedete è sempre il solito giro, questi quattro accordi, quindi sono tre accordi, ma ripetiamo Sol maggiore alla fine. Per il ritmo vi consiglio questo ritmo suddiviso in due pennate, in due accordi, due accordi, quindi Giù, Giù, Cambiate accordo Su Giù, Su Giù, Giù Quindi cambiate ancora accordo Giù, Giù, Cambiate accordo Su Giù, Su Giù, Giù Quindi Giù, Giù, Su Giù, Su Giù, Giù Giù, Giù, Su Giù, Su Giù, Giù Giù, Giù, Su Giù, Su Giù, Giù E poi si continua E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più E ti ho portato dei fiori, uno sono e l'altro sei tu E vorrei essere anch'io bello come sei quella tu Poesia senza veli di ultimo alla chitarra Imparate adesso Grazie per la visione